Ciao, mi chiamo Ramona e frequento l'Energeti Club da ormai 4 anni e devo dire che da quando ho iniziato a seguire le sessioni del club sono cambiate tante cose nella mia vita perché ho appreso tante strategie anche pratiche e soprattutto pratiche che mi hanno aiutato ad aumentare la mia autostima, la mia forza di volontà e mi hanno aiutato a crescere e perciò ringrazio Giuseana Maria per aver creato l'Energeti Club e aver dato la possibilità a tantissime persone di aumentare la loro consapevolezza e soprattutto di vivere una vita più felice, più serena e più appagante, soprattutto la mia. Grazie.